La procura di Lago Negro ha disposto il sequestro della Salma di un vigile urbano 62enne di Vibonati. L'uomo, intorno alle 20 e 30 di ieri, ha avuto un malore che ne ha provocato la morte improvvisa. Poche ore prima, nell'ospedale di Sapri, gli era stata iniettata una dose di Pfizer, il vaccino anti-Covid. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione del siero. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto. Non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino, spiega Rocco Calabrese, direttore sanitario dell'ospedale di Sapri. Tra l'altro risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria. Inoltre, per il 62enne di Vibonati, così come previsto dalle linee guida in ambito vaccinale, a vaccinazione eseguita sono stati rispettati 15 minuti di osservazione, nell'arco dei quali lo stesso non ha lamentato nessun disturbo. Sconcerto nel golfo di Policastro, da 33 anni Michele Quintieri era in servizio presso il comune di Vibonati. Intanto glielo ricordano come una persona buona e disponibile. Già nella serata di ieri il medico di famiglia ha escluso la correlazione tra la vaccinazione Pfizer e le patologie che Michele aveva. Si attende dunque l'esame dell'autopsia per fare chiarezza sulla causa che ha provocato il decesso. In momenti come questi, dichiara il primo cittadino di Vibonati, Brusco Franco, è davvero difficile esprimere con parole il grande vuoto che Michele Quintiero ha lasciato in ognuno di noi. Michele non era solo un vigile urbano, ligio al suo dovere, ma era soprattutto un amico, una persona semplice e disponibile su cui si poteva sempre contare. Il suo sorriso contagioso e la sua umanità mancheranno a tutti noi e alla comunità intera. Questa amministrazione, conclude il sindaco, proclamerà il lutto cittadino il giorno delle segue per esprimere il cordoglio per la scomparsa del caro Michele come segno di vicinanza dell'intera comunità vibonatese a tutti i familiari.